Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione sempre. Ekeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.ekeo.it Buonasera e bentornati su Go Gaming. Come ogni volta vi porterò nel mondo dei videogiochi. Siccome c'è appena stato lo scorso weekend, ovvero venerdì, sabato e domenica, la fiera internazionale del videogioco, ovvero il Games Week. E come GoTV non potevamo assolutamente mancare, infatti ci sono delle riprese super interessanti e divertenti che non vi dovete perdere. Questa sera con noi abbiamo Simone, ciao Simone, che è il Marketing Manager di Twizy e il nostro Pierre Rinaldi della Lasty Fly e Sima Bagnatica Bergamo. Faccio una prima piccola premessa prima di iniziare, che il nostro Pierre ogni volta ci porta vari gadget. E si presenta con la sua bellissima tuta da simulazione e da super ragazzo interessato ai capelli non l'ho notata la tua nuova capigliatura. Hai visto? Sì, sì, sì. Poi mai hai deciso di cambiare così? Cambiare, così si cambia. Allora, Pierre, io so che tu sei appena tornato questa mattina dalla Polonia, giusto? Esattamente. E ci sei stato per l'imminente inaugurazione dell'Airbus 320. Bravissima, è una delle novità, che tra l'altro sarà una delle novità proprio del 2022, che sarà questo simulatore Airbus 320, che siamo giustamente, come hai accennato, siamo andati a vedere giusto ieri. Abbiamo fatto una tiratona incredibile. Tra l'altro siamo andati proprio con un 320 in Polonia, perché c'è questo produttore famosissimo in tutto il mondo, che produce non solo Airbus 320, ma produce anche il Boeing 737. Ma di Boeing 737 ne abbiamo, ne abbiamo due. Ne abbiamo già anche il barlaggio. Ecco, bravissima. Allora, in qualche modo il 737, che è full motion, che ricordo che siamo gli unici in Europa ad averlo aperto al pubblico generico, avevamo poi questo 737 statico, ma giustamente inutile avere i due aerei, se no diventiamo peggio di una compagnia aerea che è monomarca. Allora, è stato scelto di prendere proprio un 320 proprio per diversificare il tipologia di offerta, perché poi ci sono appassionati di Boeing 737 e appassionati di Airbus 320. Quindi è un po' una scelta per andare a coprire, aprire il ventaglio dei nostri prodotti. E immagino che per l'Airbus 320 non siete gli unici in Italia? Allora, non siamo gli unici in Italia, ma siamo tra i pochi in Italia, nel senso che rispetto al Boeing 737 che ci sono vari centri sparsi in Italia, ma tra l'altro la maggior parte sono concentrati a area di Milano, Bergamo, Lombardia. Tra Torino e Venezia ce ne sono 7, di centri con 737 statici, quindi non full motion con i pistoni che ricreano accelerazione e decelerazione. Invece l'Airbus 320 effettivamente siamo molto meno, se vogliamo dire un numero, praticamente siamo i secondi, quindi ce n'è solo uno per ora. Infatti abbiamo curato molto il dettaglio di questo nuovo simulatore, proprio perché puntiamo anche al professional, cioè poter preparare i piloti alle selezioni nelle compagnie aeree che hanno l'Airbus 320 e per un'altra cosa abbiamo scelto il 320. Perché come tutti nel mondo del gaming ormai sanno dell'uscita, che ormai è un anno e mezzo quasi, che è uscito Fly Simulator 2020 e l'aeromobile attualmente fatto meglio per questo tipo di simulatore che ricrea un aero di linea è proprio l'Airbus 320. Tra l'altro con Fly Simulator 2020 si è aperto il mondo della simulazione di volo, perché hanno fatto talmente una campagna diciamo pubblicitaria su questo simulatore, tra l'altro è anche per Xbox, quindi sono andati proprio anche su una categoria proprio gaming, non solo gli appassionati di simulatore di volo. Era disponibile al lancio sul Game Pass dell'Xbox e questa è stata, secondo me, per Microsoft, secondo me è stata una strategia commerciale giusta che tra l'altro ci ha avvantaggiato. Perché? Perché effettivamente ha tirato verso il mondo del volo persone che magari prima non erano particolarmente interessate, sono riuscite. Sì, sì, e quindi il 320 sicuramente serve anche perché metteremo, ecco una cosa che voglio dire, come novità, tra l'altro tra la regalistica di Natale, c'è anche questo corso base di introduzione e familiarizzazione a Airbus 320 tenuto da un comandante istruttore di 320 che collabora con Dusty Fly Sim, proprio per dare quelle informazioni che servono in qualche modo per approfondire di più l'utilizzo di quell'aereo e utilizzare il simulatore non solo semplicemente per una finalità diciamo ludica, ma utilizzarlo con una finalità sempre ludica, ma con una sorta di occhio un pochettino più attento sull'utilizzo, perché è un aereo complicato, attenzione, rispetto al 737 la gestione di un Airbus 320 è molto più complicata. Immagino come per altri aerei ci siano dei pacchetti, giusto, se ne abbiamo parlato, anche della regalistica, per Natale? Per Natale sì, 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 allora in verità... Perché già ricordiamo abbiamo il nostro arretrato, la nostra scommessa che dove... Eh beh direi, direi... Ci sono ancora stata. Ecco perché dovevamo fare il volo rovescio, lo devi fare sicuramente, e qualche manovrino. Quello no, non te lo prometto. E poi devi provare a atterrare come sali nell'Azon, perché se no... Infatti un pacchetto per attirare anche i clienti è ricreare l'esperienza di sali, famoso film, famoso film che ovviamente ha raccontato quello che è successo nella realtà. Cioè di questo Airbus 320 decollato dalla Guardia New York, che durante il decollo ha avuto un impatto con dei volatili... E hanno dovuto atterrare... E hanno dovuto atterrare... E hanno dovuto, diciamo, ammarare effettivamente nell'Azon. Quindi è possibile ricreare la stessa esperienza, perché l'aeromobile è identico. In più il 320, diciamo, che è più facile da pilotare da parte del cliente. Anche in un non esperto potenzialmente un 320 lo può portare. Proprio perché è una tecnologia completamente nuova rispetto al Boeing 737. Il Boeing 737 considerate che è un aeromobile degli anni... fine anni 60. L'Airbus 320 fine anni... sì, metà anni 80, più o meno. 20 anni di differenza, che sono stati 20 anni di differenza tecnologica. Quindi, diciamo, il 320, dal punto di vista pilotaggio, richiede meno sforzo da parte del piloto, dell'aspirante pilota. Mentre il 737 è ancora un aereo molto... è più divertente da pilotare il 737, è più divertente alla fine. Ma il 320 è più affascinante. Proprio per tutta una serie di... ad esempio, a chi piace la tecnologia, il nostro 320 è sicuramente il massimo. E quindi per Natale, quindi ci saranno i pacchetti che rispecchiano un po' lo statico del 737. Quindi 60 minuti, 90 minuti e due ore. Quindi ci saranno i coupon per ora, perché, diciamo, le gift box non siamo ancora riusciti a fare in tempo. Poi magari, non si sa, i modellini... Vi ricordate che avevo portato... Sì, 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 l'avevi portato a casa. Ecco, ecco. Dicevo, tra l'altro, non ho portato il gadget, ma in verità ho portato le foto che si vedranno adesso. Ah, che possono vedere, esatto. Che sono proprio di ieri. Del nostro Airbus 320, che ormai è finito. E verrà consegnato, penso, a dicembre. Quindi, tra la regalistica, non abbiamo ancora la gift box col modellino. Arriverà con l'anno nuovo. Allora faremo solo il coupon. Ok? Quindi è il coupon in cui è descritta un po' l'esperienza. In cui c'è un piccolo briefing e poi c'è l'esperienza di volo del 320. Ma, sempre in riguardo al 320, ci saranno degli open day, ma soprattutto quando fisicamente ci sarà? Allora, quando fisicamente ci sarà, cioè dire la data come l'esperienza anche in passato. Non ce l'abbiamo. Non è una data e poi magari non è rispettata. Può arrivare prima come può arrivare poi dopo. Diciamo che il range di tempo in cui potrebbe arrivare, allora, quasi sicuramente prima del 10 di dicembre, 15 di dicembre, ce l'avremo. Attenzione. Per Natale è lì. È lì, ma non utilizzabile. Può darsi, perché dobbiamo fare dei lavori di installazione, ovviamente. Dobbiamo anche adattare l'attuale spazio del 737 al nuovo modello, perché è un po' più largo. È un salotto rispetto al 737. Tra l'altro, come vedete sempre, adesso cerco di girare le immagini, abbiamo già creato la nostra compagnia aerea. Infatti abbiamo già creato l'Airbus 320 con il logo Dusty Fly Sim, modello per FS 2020, che abbiamo già, queste immagini che vedete adesso che scorrono, sono la nostra compagnia aerea virtuale. E quindi già stiamo solcando i cieli, i cieli virtuali li stiamo già solcando. Per Natale, in più, c'è appunto questa possibilità di regalare questi corsi, questi corsi di approfondimento sull'Airbus 320. Nel pacchetto, intendi? È un pacchetto a sé. È possibile? È un pacchetto a sé. È un corso aperto, attenzione, lo si fa per gruppo, quindi si costituirà un'aula di 7-8 persone. Si parte da 7-8, che sono 8 lezioni di teoria di due ore, alcune verranno fatte online, ovviamente, alcune in presenza, perché alcune cose necessarie a farle in presenza. E poi, come equipaggio, perché poi costituiamo questi equipaggi, entrano nel simulatore e fanno 3-4 ore, diciamo, come equipaggio, dove vanno dall'accensione alla checklist, viene fatto un volo, un volo di trasferimento. Purtroppo non possiamo usare ancora FS 2020, però. Bisogna aspettare. Per l'esterno, soprattutto per il visual, perché ricordiamo che questi simulatori utilizzano per l'esterno, quindi per l'environment generale, usano dei simulatori classici che ci sono anche da casa, quindi da PC, che possono essere preparate le diche della Lockheed Martin, Fly Simulator, X-Plane 11, tutti quelli che possono essere trovati tranquillamente anche nel settore gaming, alla fine. Però, poi, cosa succede? Siccome devono avvicinarsi talmente tanto al professionale, allora c'è un software a sé che va a gestire tutto quello che sono gli schermi, i pulsanti, le emergenze, perché poi è possibile fare le emergenze. Su questo Airbus Treventi avremo anche la maschera di ossigeno per simulare la depressurizzazione e il fumo in cabina, che sul 737 non abbiamo. E quindi è davvero rispecchia... E quelle picche che comunque hanno cambiato... Sì. Ma, una mia curiosità, perché proprio il 320 e non un altro? Sei viaggiato fino in Polonia per... Sì, perché, proprio perché tra, allora, il 75% delle compagnie aeree europee hanno l'Airbus Treventi, primo, e non il Boeing 737. Il Boeing 737 è molto diffuso negli Stati Uniti. Quindi, diciamo, se dovessimo dire una cosa, il 737 lo conoscono tutti per Ryanair, detto chiaro e tondo, eh, attenzione. Mentre l'Airbus Treventi, se vogliamo avere un confronto, anche per chi magari non conosce la tipologia di aereo, nominiamo la compagnia, giù che così almeno facciamo par condicio, siamo a posto, non offendiamo nessuno. Tipo l'EasyJet, EasyJet al 320, mentre... Sì, qua abbiamo rene. Ecco, e proprio perché il 320? Proprio perché è il miglior simulatore che va a rispecchiare quella che è l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni. Tra l'altro avremo le due versioni, l'Airbus Treventi Standard e l'Airbus Treventi Neo. Cioè? Giusto? Mi sembrava più che giusta la domanda, Alessandra. E praticamente cos'è la nuova versione? Ad esempio, quasi molti aerei, tipo così facciano tutte le compagnie, così non lo vediamo nessuno. Diciamole tutte, vai. Tipo la Witzer, ad esempio, quella bellissima col colore viola, ad esempio, ha già in volo degli Airbus Treventi Neo. Cosa cambia rispetto al Treventi normale? Beh, potenzialmente i motori. Perché, come sapete, gli aerei la problematica è che... Vabbè, inquinano come tutte le cose, ovviamente usano combustibile. Però hanno cambiato, hanno, diciamo, utilizzato delle nuove tecnologie per cercare di essere più efficienti, consumare meno e ovviamente sporcare meno, tra virgolette. Hanno combinato... Eh, però le avremo tutte e due le versioni. E questo è importante perché andiamo a contentare tutti i palati. Chi è legato al Treventi, diciamo, standard, ma come dicevo il cockpit, quindi tutti gli strumenti sono identici, cambia proprio il modello di volo e cambia la motorizzazione. Ma a livello di prestazione cosa preferisci? Cosa consiglieresti? Beh, allora, se uno vuole effettivamente rimanere allineato alla tecnologia attuale, il Neo. Ma alla fine, alla finalità di imparare a utilizzare, non cambia niente. Quindi ho uno o l'altro, è identico. Dipende dai propri obiettivi, da quello che si preferisce, insomma. Brava, sì. E questa differenza è apprezzata soprattutto dai professionisti, non tanto dall'ambiente ludico. Ludico potenzialmente un Treventi, un Treventi gli va bene così. Ah, ok. E si diverte, come dico io, a spippolare, perché poi è un aero da spippolatori. Dovrò passare anche io a divertirmi, a provarli entrambi. Perfetto. Perché, esatto. Così almeno vedi le differenze. Piero, il tempo con te è finito, ma noi ci ritroviamo tra pochissimi minuti. Vi aspetto dopo la pubblicità. Così almeno vedi le differenze. 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 Così almeno vedi le differenze.